Sono il dottore Alessandro Gelli, mi occupo di nutraceutica, nutrizione biotipizzata, incremento della performance psicofisica e sono l'idiatore del sistema metodologie anti-aging e anti-stress. Ho pubblicato come autore e coautore attualmente circa 13 libri. La particolarità del mondo di oggi è l'elettromagnetismo artificiale che ci permea e ci circonda come non mai nella storia. Perché abbiamo numerosissimi campi elettromagnetici con specifiche frequenze in base al tipo di dispositivo. Basta pensare che oltre alla rete che ci emette un campo elettromagnetico a 50 Hz, la rete intendo quella a 230 volte in alternata, abbiamo poi i cellulari, i tablet, i modem e wifi e quindi siamo attraversati anche da campi elettromagnetici nel range dei megahertz, dei gigahertz, con la telefonia di quinta generazione si arriva anche intorno ai 30. Quindi di fatto non c'è un paragone rispetto al passato. Cioè viviamo una situazione di stress elettromagnetico come mai nella storia. Cioè i nostri antenati non hanno mai vissuto questo tipo di stress. Sì perché i campi elettromagnetici artificiali assorbiti praticamente in cronico e tutti questi vari tipi a più frequenza inducono nel corpo umano un incremento dello stress ossidativo, favoriscono anche l'infiammazione e quindi non vanno altro che a peggiorare le nostre capacità di performance psicofisica. Ma esistono fortunatamente diversi remedi, vari nutraceutici, dei dispositivi come la vitalizing card che permette un riequilibrio del campo bioelettromagnetico. Ricordiamoci che l'organismo vive grazie ai fenomeni bioelettrici e bioelettromagnetici. I campi elettromagnetici esterni non fanno altro che interferire con questi segnali biologici che sebbene equilibrati ci mantengono in salute. Quindi sono delle interferenti, dei disturbanti. Purtroppo si associano ad altri tipi di stress ossia quelli emotivi, quelli da metalli pesanti, quelli da virus, stress, tossine. Quindi nell'insieme possiamo dire che il nostro organismo viene costantemente attaccato da numerosi stress ossia e quindi abbiamo da una parte i nutraceutici per contrastare infiammazione e stress ossidativo. Dall'altra un dispositivo come l'S-Drive che ci permette di identificare quali frequenze quel soggetto specifico ha assorbito e quindi ci permette di elaborare una strategia personalizzata. In più abbiamo un altro dispositivo che ci permette poi di riequilibrare il nostro campo elettromagnetico. Insomma da una parte abbiamo delle problematiche e dall'altra abbiamo dei rimedi che vanno sicuramente conosciuti e bisogna saperli applicare.